allora scusate come vedete non sono messo al meglio non ho a un certo punto ho smesso anche di guardare cosa mi diceva il termometro no della febbre che avevo ma tanto qui dovevo essere e volevo essere allora cosa vi ha detto Matteo Salvini ha detto che ci sono delle cose importanti che devono essere sistemate allora evitiamo di fare giri di parole diciamo qualche cosa che deve essere sistemata perché vedete come lui ha detto in commissione bilancio arrivano migliaia di emendamenti sarebbe facile andare a fare ironia su le sciocchezze che sono entrate in questa legge di bilancio non lo so 400 mila euro per i festeggiamenti dei dieci anni dei cento anni del partito comunista cioè sono cose che non hanno molto senso ma c'è una c'è un elenco no lunghissimo però ci sono delle cose gravissime che devono essere sistemate prendiamo la questione banche cos'è che non va nelle banche beh ve lo spiego io cosa non va nelle banche una regola che si chiama bail in vale a dire se noi se noi abbiamo fatto passare l'idea che chi mette i soldi in una banca può rischiare di non vederli siamo tornati esattamente ai tempi della grande depressione quando c'erano le code fuori dalle banche per la corsa agli sportelli è una cretinata lo dico da quando è venuto a qualcuno quest'idea marcia di farlo passare come regola perché arrivano tutte dalle regole morali della germania no bisogna essere consapevoli che chi investe deve rischiare intanto loro le loro banche le sistemano tutte è successo anche due un mese fa con una con la banca al nord del b e invece da noi vanno a prendere o meditano o minacciano di andare a prendere i soldi dai risparmiatori ma capite che non può funzionare perché se oggi io vedo sul giornale che ci sono dei problemi con la popolare bari e ho i soldi sul conto corrente della popolare bari e so che c'è il belin non sto a vedere se per caso i miei soldi rientrano nella fascia tutelata o meno la prima cosa che mi viene di fare è prendere portare via tutto finché posso e intanto dormo male in questo fine settimana ma ma questa cosa dato che non è che ci siamo svegliati adesso sulla popolare di bari che ci fossero un po di problemi della popolare di bari lo si dice da mesi e sono mesi che la gente preleva denaro ora se in una banca qualcuno ha sbagliato quindi se c'è un come succedeva per esempio nelle banche toscane se venivano prestati soldi agli amici degli amici e poi questi scappavano non va bene ma c'è un rimedio per queste cose si chiama galera perché se un banchiere prende fa sparire i soldi e beh è un furto tanto quanto no normalmente non è che perché se la gente ruba per le strade devi pagare tu se io trovo il ladro lo porto in galera c'è un istituto con migliaia di pagatissimi dirigenti che si chiama banca d'italia il cui mestiere è quello di vigilare perché voi non potete sapere cosa succede in una banca loro possono entrare in ogni momento guardare tutti i conti e decidere se stanno venendo fatte bene le cose o meno la banca d'italia non vigila galera anche per loro non è che voglio fare il grillino o il manettaro però è così evidente cioè ci sono delle responsabilità sia di chi ruba i soldi sia di chi deve vigilare non vigila l'unico che non può centrare niente è la signora che ha messo i soldi sul conto corrente o l'impresa che idea cretina può mai essere che se un banchiere ruba o se la banca d'italia non vigila paga il risparmiatore è una scemenza ed è una delle tante regole che ci arrivano dall'europa questa deve essere spazzata via perché altrimenti i buchi si autoformano perché basta che si metta in giro un titolo di giornale che dice ma ci potrebbero essere un po di problemi in questa banca e tutti tutti cominciano a prelevare i soldi perché tanto non costa niente basta schiacciare un bottone fai un bonifico da una parte e gli sposti dall'altra e si creano dei buchi enormi che poi devono essere pagati con soldi pubblici e non puoi continuare a metterci una pezza se non risolvi la causa il beilin deve essere tolto il mess ma ma capite che queste sono cose enormi su cui bisogna parlare invece no ti mettono a parlare della curvatura del cetriolo e cose di questo tipo non va bene allora il mess è un'altra cosa simile al beilin il mess dice che se ci sono dei problemi non si sa quali per uno stato beh è possibile loro giocano sul fatto ah ma io ho tolto che sia automatico e grazie al cavolo che non deve essere automatico l'azzeramento dei titoli di stato ma non deve essere neanche possibile loro ti dicono che se uno stato ha dei problemi allora è possibile che i titoli di stato vengano segati cioè che tu hai prestato 100 allo stato no per avere dei botte dei btp e loro te ne danno boh 70 80 50 seconda di come si svegliano ma voi capite che questa è una follia non può essere perché il titolo di stato è per forza non una speculazione ma è una maniera sicura di poter mettere i soldi senza rischiare niente bene se noi facciamo andare avanti il mess e già solo il fatto che perché finché si abbaiava noi col mess ci abbaiavamo da tanto tempo dicevamo no non va bene non va bene un conto fortunatamente a un certo punto Matteo Salvini ha detto adesso basta no e ha appestato i piedi e vedete che si è tutto bloccato perché se non c'eravamo noi a fare il diavolo a quattro come abbiamo fatto anche sul mess adesso dove dove è i ezi che ha fatto pure a botte alla camera no ma d'altra parte insomma in certi casi un po un po di energia ecco mettiamola così no per far valere il nostro punto di vista ogni tanto serve Igor non si non si nasconde mai no quando si tratta di fare queste cose bene ma se non ci fosse stato anche quella rissa alla camera a quest'ora il mess era firmato era firmato ve lo assicuro e il mess ovviamente non mette in in a rischio i titoli di stato tedeschi mette a rischio i nostri quindi sono tutti degli strumenti con cui ci fanno la guerra con degli strumenti che non sono più quelli vecchi quelli dei cararmati quelli dei no utilizzano degli strumenti finanziari bene io a questo vorrei richiamarvi quando quando Matteo Salvini dice sistemiamo le regole quando Matteo Salvini dice Boris Johnson può decidere questo è ci sono dei problemi clamorosi in Europa che devono essere sistemati per poter avere una convivenza eh minimamente civile ma di questo non si deve parlare sono considerati come dati di fatto beh il mess giusto per capire perché è uno di questi problemi no che al momento stiamo cercando di fermare beh il testo del mess è stato fatto vedere il 12 giugno in una stanza di palazzo chigi a quattro persone di cui una è lì in in prima fila vale a dire a gravaglia senza dover con l'ordine di non prendere appunti non fare fotografie e di non dire niente a nessuno questo il giorno prima che ne discutessero in Europa voi capite che non si può ragionare così perché il parlamento che deve poi può anche essere che nel parlamento magari si facciano cose confuse ma almeno se nel parlamento si comincia a discutere una cosa è tutto il paese che ne discute infatti noi l'abbiamo portato di fronte a tutto il paese questo problema ma così andava fatto per tutte le regole che poi noi ci siamo trovati e non potevamo più discutere trattati di Dublino eh regolamenti sui migranti e così via tutta roba che ci arrivava senza che si potesse discutere e senza che il parlamento potesse intervenire quindi io vi saluto e vi do un un invito noi siamo lì a far la guardia per voi ma voi dovete supportare quello che stiamo facendo perché i nostri nemici sono fortissimi le potenze della Germania sono gli interessi in gioco i miliardi che girano sono cose che fanno tremare i polsi allora il punto è abbiamo la fortuna di avere una squadra disinteressata di gente che ha un ideale perché la politica questo dovrebbe essere abbiamo degli ideali non abbiamo la convenienza momentanea come giustamente ha detto Salvini stiamo accogliendo gente che passa dalla maggioranza all'opposizione questo è è un buon sintomo di uno che evidentemente ha voglia di lavorare con noi e non ha desiderio di avere convenienza ma voi siete protagonisti voi dovete appoggiarci perché queste battaglie sono devastanti vedete quanto ci attacca la stampa io appena apro bocca mi cambiano le parole mi dicono cose che non ho detto e così questo tipo tutto per cercare di fermarci bene noi ci siamo se voi ci siete perché queste battaglie sono per tutti voi vi ringrazio ciao